Allora ho iniziato la produzione dei mobili per i bambini, però negli ultimi 2-3 anni sono entrati per il soggiorno a fare mobili per il soggiorno e per la prima volta espongono qua in Fiera Milano. C'è tanta novità qua, praticamente tutte le novità sono disegni fatti da un greco designer, si chiama Gheorgaras e presentiamo il suo lavoro qua. Abbiamo mobili per il soggiorno, tavoli, sedie, la credenza, poi per la camera da letto, tutto il set per la camera da letto. Praticamente c'è tutto. Novità sui materiali sono i pezzi in multistratti, quelle forme particolari. Lavoriamo innanzitutto per la Grecia e speriamo di estendere la nostra attività anche per l'Europa.